Nell'ambito di un'operazione di controllo economico del territorio, il nucleo di polizia economico-finanziaria di Teramo ha scoperto un vasto centro di distribuzione di merce contraffatta. Durante il blitz sono stati sequestrati numerosi articoli di abbigliamento, tra cui maglie, felpe, pantaloni, borse, marsupi e scarpe, recanti falsi marchi di russo. Gli agenti hanno anche trovato una macchina per il trasferimento termico impiegata per imprimere i loghi contraffatti sui vari prodotti. Il successo dell'operazione è frutto di un'intensa attività di contrasto alla contraffazione condotta durante l'estate lungo la costa teramana. Grazie alle indagini della sezione mobile della Guardia di Finanza di Teramo è stato individuato un laboratorio clandestino all'interno di un'abitazione a Pescara, dove erano presenti una presa a caldo in piena funzione e oltre 2000 cliché pronti per la falsificazione. Il titolare del laboratorio, un cittadino senegalese con precedenti penali specifici, è stato denunciato per l'introduzione e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. Complessivamente nel 2024 l'operazione ha portato alla denuncia di otto persone al sequestro di oltre 5000 capi contraffatti, che avrebbero generato un guadagno illecito di circa 25.000 euro. L'attività del comando provinciale di Teramo fa parte di una più ampia strategia volta a contrastare la diffusione di prodotti non sicuri, garantendo la protezione dei consumatori e il rispetto della legalità tra gli operatori economici.